Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, nuova live reaction, oggi un po' di sconforto perché ragazzi purtroppo in settimana è arrivata una triste delusione l'eliminazione in Champions League contro l'Atletico Madrid, quindi oggi un po' il morale è un pochettino sottoterra, diciamo però appunto per questo motivo oggi Inter-Napoli, partita fondamentale per il campionato con la Juve che anche oggi ha pareggiato, ormai la Juve ragazzi veramente, cioè cosa ci prendete per il culo a fare, ma cosa ci prendete per il culo a fare, comunque Juventus a parte, il Milan ha vinto ma chi se ne frega, campionato ragazzi dobbiamo continuare ad ammazzarlo e oggi soprattutto dobbiamo farlo perché Napoli è la squadra che ad oggi è ancora campione d'Italia, quindi vincere oggi oltre ovviamente a ridare tantissimo morale perché il morale, come è giusto che sia, è un po' sotto i piedi ma ciò non cancella la bellissima stagione fatta fino ad adesso, appunto vincere contro Napoli vorrebbe dire quasi strappare lo scudetto a campione d'Italia, quindi sarebbe importantissimo anche per questo motivo vincere questa sera contro Napoli, noi come al solito ragazzi ci vediamo cioè, stasera, io dico stasera perché devo andarci, per voi ovviamente sono i soliti due secondi, comunque, live reaction, adesso si va in curva, come al solito, si va allo stadio e niente, forza Inter, dai ragazzi, dai ragazzi, rialziamoci perché è vero, l'eliminazione in Champions ha fatto male ma non cancella la bellissima stagione fatta fino ad adesso, dai Inter, dai ragazzi con il numero 10 con il numero 22, Eric con il numero 23, Micho con il numero 28, Breccioli con il numero 32, Federico con il numero 36, Matteo e con il numero 95, Alessandro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.